Ok raga, è 0-0. Ho già messo. Ok raga, si comincia, scusate. Comincia Winners Final, grande hype. Justino così dietro che vedo Marto Tiger. E ricarica la pagina Ring, non so, go. No, sta bene? No, no, non è la lifehands, vado un po' dietro per il lag. Eh vabbè, vedi 300 ms di... è normale, è normale, deve per forza, se no è un casino. O comunque no, Rendy si parte come al sole dalla grande. Ma non mi ha dato illusa se il suo Donkey Kong m'ha distrutto perché è proprio... E' proprio saper conoscere il gioco, è quello. Se l'ha anche allenato bene abbastanza. Sì, sì, ovviamente. Scusaci Ring, Tollu, però qualche volta gli streamer mettono un po' di secondi di ritardo per tanti motivi. Si ci farei che c'è 5 secondi di ritardo, una roba di genere. Eh vabbè, che gli faccio 5 secondi che non mi chiede da cuore qualcuno. Sono. Guarda voi non siete qua a guardare in diretta. Scusate. Anche se è un minuto di ritardo. Fammi controllare. Vedi se vuoi. No, controllo qua, vedo se. Come possiamo vedere, com'è, com'è andando. Il nostro grandissimo è il Marto, sto cercando di recuperare. Per non perdere lo scott. Gandix purtroppo viene messo alle strette, a ridere. A me si può continuamente lo stream. Forse perché la cresce nel telefono, Susanna. No, no, non tu lì. Ah, lui si è. Io, io, si, si è. Comunque non so, non credo. E' un quadrato rosso a cosa. A me tu dici che sta andando a puttane. Eh, qualche volta può essere un server di Twitch o perché Dimes sta mettendo altre impostazioni. Adesso, dopo lo vedrò. Ci chiediamo. E' grab di El Marto. Cerca di fare Aerial, ma non ci riesce. Ok, sempre. Però lo prende, mazza. Prende le mazza delle nostre doppie con. Eh, uh. Sì, una mazza. Vediamo se recupera. Sì, recupera. Oh, missile 2 frame. Vabbè. È difficile, è difficile. Però non muore. Lo so. Oh! Però conviene il rage che fa adesso. È andato troppo avventato. Sta sempre aim alla fine del ring, il nostro povero Gandix. Scusate, chat, se lo streaming è un pochetto in ritardo, però è la vita. Mi dispiace, Fleb. Non andare, per favore. Fleb, non abbandonare. Fleb, è sempre tu di vista. Non andate via, vi prego, siamo già fuori. Ok, raga. 1-0 per il nostro El Marto. Eh, mi dispiace. Dobbiamo chiedere a... Ma così male. A Perugia sono le 18. Adesso, a Perugia, grazie che ci stai guardando da lì. Bella città, eh. Lo devo andare in Time's Up. Times! Times! Beh, beh. Mi serve? Ho un sacco di ritardo alla stream. Casi inizio. Mi sa che la tua connessione non è che va molto male. Hai un po' in ritardo alla stream, tipo di tanto. Stanno, guarda, se adesso ti faccio vedere, stanno a metà match prima. Comunque, si è messo. L'hai aperto qui? L'hai aperto qui? 1-1-3! L'hai aperto? No, 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 no. No, l'ho controllato dal telefono io. No, ok, ok. No, ma che è normale che vi danno? Il film è sempre di là. Guarda che scrive, uno ve lo sa. Eh, la gente si sta, sta, trolla un pochetto. No, vuol dire che è lagga. Se lagga, puoi essere pure perché c'è limite. Eh, lo so. Siamo in 3G. Ah, in 3G. Eh, vabbè, ragazzi. O questo è niente. Cioè, ci può essere che a volte prende e va... Comunque, no, no, commentiamo il match. Comunque, no, no. Anche se perché piove in questi giorni, scusate, ragazzi. Si comincia comunque sempre... Ah, scusate. Commentiamo, se no. Ecco. Oh, iniziamo a commentare. Comunque è... Uno stop di gandex andator. Scusate, ragazzi. Adesso tocca a te a fare un po' di passo. No, grazie. Sto a posto di pio, no, guarda. Anche ho mangiato un sacco. C'ho una fame, non puoi capire. E io mi faccio... Giocare a Smash fa venire fame. E anche a te la... Sarebbe il momento di fare, tipo, uno spot lucidario, ma no. Abbiamo un micato, ma... Allora, comunque... Il neutral è molto carino del match, per sempre, che... Non droppa una con... Non riesce sempre a fare molto più... Non sbaglio veramente poco, Poi. Allora, ti fa questa cosa bellissima, ti carano a tu. Ora, come si può vedere, Gandhi sta giocando un pochetto più difensivo. Non troppo offensivo, perché sennò perderebbe lo stock ancora. Sì, infatti, prima è stato il suo problema a giocare... Perché è un po' da Donkey Kong, però... È Donkey Kong, però giustamente. Dai, sta recuperando. Sì, però... Infatti, stanno adesso un po' in parecà. Però la recovery di Roy, la gente dice no, ma... Io tutti Fire Emblem, c'ho paura. C'è no, se ho più. Comunque Fire Emblem è mer... No! Grazie. Da morlare qui. Si concentra, non si concentra. Ok, uno stock di vantaggio per il matto. Cerca di fare invincibilità, giusto. Un crash e un bel scudo. Scuda vado e quando torno vedo Gandix con DK. Cosa? Eh, raga! Allora, Ringa che oggi ha voluto giocare sempre DK. Mi ci ha fatto il culo, quindi pensavo un po' te. Beh, a te non credo che questo tornava importante tanto? O sbaglio? Eh? Questo tornava importante tanto oppure... Per lui è... Per lui è quello che è. Ah, va. È tipo andare a prendere... È tipo andare a prendere la pensione per un... Per un pensionato. Cioè, vai lì e le prendi. Devi fare la fila. Devi aspettare un po'. Se lo prendi, lo prendi. Se lo prendi, se lo prendi, lo prendi. Se lo prendi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io ho uno slideshow, what the fuck? È morto prima, d'accordo. Raga, vuol dire che faccio uno slideshow. Eh, oh. Slideshow, perfetto. Eh, che lagga così tanto che... Oh! Che fa tanti occhi. Scusate, raga. 3 minuti di lagga, vado in senso. Puoi restartare la live, scusate, la stream un pochetto. Ma dopo devo rivedere come. Ok. Il OBS lo so usare, ma lui è impostato in un modo che non posso fare niente, scusate, raga. Se io non connesso. Comunque, siamo sempre un momento di stallo. Sembra una compilation, eh, scusate, raga. Che la connessione oggi piove, piove nelle marie. Sto male. Sì, poi anche può essere anche magari per la mia connessione popolo anche... E abbiamo la connessione di fortuna, purtroppo, oggi. Scusate ancora, raga, per la live. Niente. E il nostro marito ha vinto. Ma Winners mi sa che è meglio di 5. E' vero, è meglio di 5. Va bene, 2 per il martello, allora è 0 per il cartello. Non è mai senza suicidio, la prendeva. Come va? Come va? Io ho eliminato l'uscista. Ah, l'uscista ti ha battuto? Eh, scusate, è tutta una macchinazione. Era tutto programmato qua. Però poi recupereremo il lago, 3 secondi alla volta. E poi, sì, secondo me... Guarda, ti dico, è già finito. Scusate, raga, guarda. Trolliamo, no. Scherzo, non si trova, non si trova. Si, è già finito. Perché questo lo vedono in diretta. Sì, sì, vado sì. E' una video per il tempo, però. I personaggi, vai. No, perché il chat è sempre in diretta. Oh, attenzione. Oh, scusate, raga. Terza partita per la finale. Winner, fine. Però non capisco. Prima ha preso un S. Cioè, pur la fa di tornare a combattimento, ma prima ha preso un S, invece, ora vuole continuare con l'Auribon. Si vede che... Si sente più filiato. Non so, non più. Forse per il me c'è una acqua. No. Ah, che è real? Oh. Buonfla! È bellissimo, bellissimo. Rediftata bene. Oh, a camisera. È del mondo del game? Eh, in Eterolle, ragazzi, la vita, eh. Questi due non possono aprire n'entra cosa che c'è. Bello, bello. Guarda, Gandix si porta solo un vantaggio. Uno spot di vantaggio per Gandix, infatti. Bello anche il... L'interazione c'è stata all'inizio. Della nuova stock. Poi? Sì. Vabbè. Sì. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Gandix è ripartito. Gandix è deciso oggi. È deciso, si è deciso a voler vincere. Buona, appanità. Apey. Grandix, via la pressione, la pressione anche. Questa volta il nostro Gandix vuole metterlo alle strette su Brindle. Ehi, la commissione è tornata normale. È vero, la commissione è rivelata buona. Oh, buono, buono. Scusate, raga. Vieni. Raga, forse è tornata bene? Eh, vi chiedo. No, credo che funziona così, perché quando è andata bene, c'è un po' da perosso. Quindi, non so, io non so tecnico, però... Lui che fa a B con il fisce Gandix la ripassa, non stavo nemmeno a cadere. Ho capito, il Mao. Il Mao. Il Mao. Raga, forse adesso si è stabilizzata la live, quindi è diventata normale. Scusate, raga, ancora. Nassimark junkie. Ecco, di nuovo su Tori. Ok. Va bene, c'è un buon vantaggio per il nostro Gandix, può recuperare bene questo. Oddio, sta musica però non si può sentire. Prima c'era la Champion Steven di Pokemon, di Legendary, esce invece che i villager hanno questa musica. Stock di vantaggio per il Gandix. Buonissimo Marco. Sì, perché in un crossing tipo per ogni ora c'è una questione diversa. Marco che fa counter. Counter lo fanno le fighette bagnate come te. Ok, tanto il beef in la chat che... Marco fa Dale. Eh no. E vabbè, è un bicchiere. L'Immortante che non è pieno. Esatto. È mio, grazie. La forbida è mossa. Allora. Ora va la stream. Eh, raga, la stream può andare e può non andare, scusateci. Ora va la stream. L'Immortante è che va ogni danno. È per fortuna oggi. Oh, attenzione. Ammetto che cerca di... Però a me non ci sono lo sconto, quindi si è preso un altro po' di cercare un vantaggio. Grande. Ah, bello. No. Non cantiamo vittoria subito. Dopo lo stream ci ammazza. Sì, attenzione, attenzione. Per me con questa musica è vero non si vuole dire. Comunque è il rage, il rage. Ok, vai. Gandix 1, Marto 2, vai. Cambiate lato. Dai, vogliamo il recupero noi. Eh, Gandix 1, vai. Metti che si veda a noi. Ok. Voglio vedere un attimo come funziona. Ah, ok. Si vede metà della testa a tutti. Però vabbè. Ma vabbè. Questa telecamera è molto bella come si vuole. Guarda, se si potesse mettere più in là, però dopo un casino. Io non mi vedo male. Però il nostro più importante ospite qua è oggi, è lui. Il nostro grandissimo Giglipper. Possiamo stare bene così, l'andassistiamo così, vabbè. Eh, arreggialo. Eh, possiamo così, a posto. Ecco. Allora. Benvenuti. Ma dopo 50 euro, voglio le comprare adesso. Allora. Ci ha sentiti, ha fatto Dale. Hai giocato la partita. Eh, deve fare Dale. Sono giocato. Comunque, non vi mettiamo a disagio, vero? Aspetta. Vero? 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 Ok. Comunque no, no, no. Riprendiamo. Vai. Ma che merda. Contenuto. Solamente non vi voglio. Ok, iniziata la grande partita. Comunque ha ripreso la connessione. No, la connessione sta andando a puttane. Eh, mica lo dico e va a puttane. Vabbè, va. Infatti abbiamo già detto scusa. Ma non la considerate. È così la vita. Ok. Uh, aereo. Si riparte su dalla grande. StDR oggi. Mamma mia. Combine. Donkey Kong che cerca di recuperare, perché. Uh. Let's go. Oh, oh. Vediamo che fa. Uh. Ahia. L'ha predicato. Guardate indietro. Buono. Siamo calmi nelle chat. Ma tanto Twitch lo fa automaticamente. È lui che deve decidere le parole alla fine. Ok, scusate. È il di Donkey. E lo prende. Poi riprendiamo il stage di nuovo ma con la musica peggiore. Cosa è quello di dire che dicevo tutto così. E va vabbè, è Marto, è Marto. Fare Embrims per tutta la vita sicuro questi. Donkey Kong che carica. Non sarei dato sicuro ma va bene. Fistra neutral. Vediamo, vediamo. Sì, ora è neutral. Non resiste neutral. Sistono rarita. Ormai sto facendo il Tuff. Out of shield e air. E va vabbè però. Eccola. Raga, la di air è per Marte che la vita. Bello. Però no. Peccato, peccato. Però almeno si ha tolto la stock. Penso perché se non continuiamo. Però si può recuperare. Non è impossibile. Sì, sì, dopo come recupera. Eh, guarda che qualcuno anche con uno stock fa i tre stock. Almeno toglie il rage. E' quello che sembra il meglio. Toglie il rage all'armi. Prima contro Fox ce l'ha fatta. Bello sto Willy Klee. Un po' laggante anche. Però si va avanti. Oh, è ritornato il nostro muster. Io devo giocare contro World of the C. Ah, devi giocare adesso o dopo? Adesso. Cioè non in stream, per fortuna. Vuoi stream? Vuoi? Scillate i televisi unici e poi beh. Sai di perdere? Ah, mi perde il live. Perché non sono stream. Vediamo, vediamo. Oh, io è la prima volta che vinco il live all'inizio, quindi mi è piaciuta la cosa. Wow. Contro gli asci, quindi. Oh, quindi avremo a me con le strane. Marco purtroppo non la voglio recuperare. Eh, perfetto. Donkey Kong cerca di non farsi prendere. Una presa del motto, sicuro. Eh, perfatti. Un'area nota. Ok. Eh, il fastball è dopo se ne ha prendi questo. E' Marco 3 candicssono, quindi automatica. Eh, sa che per me basta con il level.